No, non ho preso il bar. Lavoro con un mio amico. Perché? Sì, ma perché? Sì, eh. Sì, ma perché lavoro con un mio amico. Ho preso tipo un negozietto di macchinette per il caffè, così. Capito? Cosa? No, niente. Ma non è che devi spendere soldi tu, eh. Capito? Sì, eh. Eh, vabbè, ma tanto non devi pagare tu, non ti preoccupare. Vabbè, non lo buttare, eh. Eh, vabbè, cos'è come si chiama questo foglio che è diventato un minuto.